Bene, rinnovo anche il benvenuto a coloro che si stanno mettendo in collegamento in questo momento, ripeto per questo nostro quinto incontro online penultimo, che si concluderà appunto online giovedì prossimo ma con l'ultimo appuntamento sabato 18 marzo al monastero dei Santi Quattro Coronati che ha come priora Sorfuglia che tiene appunto questo nostro itinerario di formazione sulla priera. Bene, detto questo passo la parola a Don Andrea, al nostro direttore, per introdurci in questo quinto incontro. Buonasera a tutti, grazie a Domenico. Spero che questa serie di incontri vi stia un po' stimolando, vi stia suscitando qualche idea sulla priera e anche che riusciate, un po' come dicevamo le volte scorse, a viverla non solo come un momento utile per voi, per noi tutti, ma anche in chiave proprio da catechisti, cioè su come aiutare gli altri a pregare. Come abbiamo detto tante volte nel compito di essere catechista è compresa anche l'iniziazione alla preghiera, cioè accompagnare le persone nel fare esperienza della preghiera. La preghiera che è un dono, che è un'opera dello Spirito in noi, che è un dialogo fra noi e il Padre, quindi non è qualcosa che possiamo produrre in nessun modo ed è anche qualcosa che difficilmente si può dire si insegna nel senso proprio un po' più tecnico del termine. Però certamente possiamo accompagnare gli altri a fare esperienza della preghiera e questo è un compito dei catechisti. Quindi spero che vi stiano venendo anche un po' di idee in questo corso. Una volta scorsa abbiamo parlato, vi ricordate con Sor Fulvia, della comunità, del fatto che la preghiera cristiana si inserisce nella preghiera del corpo di Cristo, che è la Chiesa, che non è mai una preghiera solitaria. Ora spero che questa esperienza di preghiera comunitaria sia, appunto, sia proprio una delle esperienze che facciamo fare ai bambini, ai ragazzi, e in generale a tutte le persone che accompagniamo nella scoperta della vita cristiana. Bene, allora ringraziando sempre Sor Fulvia per la sua disponibilità, lascio a lei la parola. Buonasera, buonasera a tutti, grazie a Don Andrea, grazie a Domenico e ben trovati. Siamo sempre molti e questo è di grande incoraggiamento, forse, come dicevo ora da Andrea, spero che questo tema, questi brevissimi incontri ci stiano stimolando un po' ad andare più a fondo sulla, su questa relazione che abbiamo detto essere vitale, perché viva e con il Dio vivo e vero. Allora abbiamo già detto molte cose e probabilmente per molti di voi non molte cose nuove, e spero che sia così, spero piuttosto di aver intrecciato e intercettato delle cose vere che magari già conoscevate, che conoscevamo senz'altro e che però hanno bisogno di essere in qualche modo così rispolverate. A volte però ci capita che se non sentiamo cose nuove trascuriamo anche le cose vere e questo ci potrebbe penalizzare nell'ascolto. In ogni caso non potremo dire tutto, ecco io mi sono accorta che siamo al quinto incontro, ce ne manca uno online e poi un incontro di preghiera, non sarà possibile dire tutto, mancherà sempre qualcosa e ciò che manca io mi auguro che sarete voi a cercarlo, a scoprirlo, perché la preghiera abbiamo detto che cresce con chi prega, quindi credo che qui abbiamo potuto, almeno io magari non ero capace di fare di più, però abbiamo potuto solo tracciare qualche pennellata, qualche schizzo, sperando che siate stati raggiunti da qualche intuizione, quindi mancano e mancheranno molte cose e proverò nel prossimo incontro a partire dalle risposte ad alcune delle domande che mi hanno raggiunto e ad aggiungere qualcosa in attesa di trovarci poi a pregare insieme il sabato mattina. Oggi tocca parlare di un tema importantissimo che riguarda la preghiera con e nella parola di Dio. Vorrei iniziare quindi questo incontro con questa preghiera proprio che vi ho messo qui, presa dalla liturgia di Bose, con questa invocazione che possiamo recitare insieme, la leggo io per tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio nostro Padre, manda su di noi il tuo Spirito Santo perché spenga il rumore delle nostre parole, faccia regnare il silenzio dell'ascolto e accompagni la tua parola dai nostri orecchi fino al nostro cuore. Così incontreremo Gesù Cristo e conosceremo il suo amore. Egli vive e regna ora e nei secoli dei secoli. Amen. Allora, quindi oggi parliamo della preghiera in particolare con e nella parola di Dio. Abbiamo già detto che c'è un pozzo, torno a cui sostare, dal quale andare e da cui attingere all'acqua della vita. Ecco, il Catechismo ci ricorda che la parola di Dio è collocata proprio alle sorgenti della preghiera. La sete, che abbiamo detto abitarci, è destinata ad incontrare questa fonte che è Cristo, verbo del Padre. La parola di Dio, quindi ben a ragione, si trova tra le sorgenti della preghiera perché è da lì che appunto sorge, nasce. Scopriremo come è già stata, deve sgorgare anche dal nostro cuore attraverso la parola. Quindi quasi subito appunto il Catechismo al numero 102 sta dicendo una cosa importantissima. Dice che Dio attraverso tutte le parole della Sacra Scrittura non dice che una sola parola, il suo unico verbo nel quale dice se stesso interamente. È chiaro che l'invito che vi faccio molte volte navigando fra vari testi è quello di tenere insieme, cioè noi non possiamo parlare di una cosa, della vita cristiana, trascurando tutti gli altri aspetti della vita cristiana. Questo è il nodo della rivelazione, il nodo della fede, attraverso il quale noi sappiamo che le parole della scrittura sono per noi la rivelazione del volto di Dio. Sia il primo che il secondo testamento, noi li leggiamo e sappiamo di leggerli in chiave cristologica, cioè parlano del verbo, parlano di Cristo. E questo ce lo dice appunto il Catechismo, ma potremmo dire che non solo noi scopriamo insieme come la come la Samaritana che quando lo incontra Gesù al Pozzo, l'incontro con la parola ci rivela la nostra identità, rivela quella sostanzialmente di figli di Dio, di persone, di uomini e donne conosciuti dal Padre. La parola ci dice Giacomo, mi sembra, è lo specchio nella quale ritrovare la nostra immagine, quella più vera, più nitida, che è quella di figli che hanno un privilegio. Quello ci dice la parola di chiamare Dio Abba Padre. Allora la parola ha la forza di metterci immediatamente in questo dialogo, ci restituisce la qualità di persone perché ci strano, dalla solitudine, ci rimette dentro una relazione con Dio. Quando siamo di fronte alla parola siamo tolti da quel monologo interiore, ma immediatamente abbiamo qualcuno che ci parla. Siamo tolti dal nostro individualismo e ci ridice, ci ricolloca nell'esistenza, ridicendoci chi siamo e chi è Dio. E questo, se glielo lasciamo fare alla parola, scopriremo che è veramente uno strumento della salvezza. Vedremo cosa significa. Paolo comunque ci dice che, definendo la parola, dice che la parola di Dio è la spada dello spirito. E' molto impressionante questa definizione. Egli fa eco nella lettera agli ebrei dove dice che, leggiamo insieme il testo, la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio, penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle. Escruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Allora, qui l'autore della lettera agli ebrei sta attribuendo delle qualità, delle caratteristiche alla parola di Dio che ci saranno molto utili per scoprire o reimparare come pregare con la parola. Prima di tutto ci dice che la parola di Dio è viva, perché è viva? Perché le parole di Gesù sono risorte con Gesù. È una parola viva perché sono le sue parole con lui vivente ed è una parola creatrice di vita. Noi, anche banalmente, facciamo un esempio, sappiamo benissimo come le nostre parole hanno potere di creare, di distruggere. Noi abbiamo, a volte anche basta alzare un sopracciglio per distruggere una persona e con le parole siamo capaci anche di edificarne le virtù, le qualità oppure di seminare veleno, di distruggere. Possiamo creare affetti e amicizie, relazioni o possiamo distruggerli attraverso le parole. Tanto più la parola di Dio, quindi, che è una parola sempre buona, ci dice la scrittura, è buona dal buon sapore anche, è una parola creatrice, è una parola che crea, che ci è donata per edificare. Ed è una parola che ha quindi dentro di sé questo principio della risurrezione. Chi ascolta immette il principio della vita eterna. E questo davvero conosciamo il potere quasi eterno delle parole che riceviamo, no? Ci sono delle parole che abbiamo ricevuto da piccoli che ci hanno segnato in bene o in male. Quanto più la parola di Dio invece ha questo potere di essere portatrice di eternità. Poi Paolo dice che, Paolo, la lettera degli ebrei dice che la parola di Dio è efficace. Significa che agisce. L'efficacia della parola vuol dire che chi ascolta non può più fare finta di non sapere, non può più fare a meno di aver ascoltato. Non lascia mai indifferenti, ma muove. A volte muove ad un'ostilità, muove a una critica, muove a un giudizio, ma muove, scuote, muove l'animo di chi la riceve sempre. È una parola tagliente e non intende, almeno solo che fa il male, cioè che è tagliente come sono le lame dei nostri coltelli, ma taglia vuol dire che opera un giudizio, cioè che ci mette in crisi nel senso letterale del termine. A volte fa male, ma mette il cuore a nudo. È come se questo taglio è una circoncisione del cuore, ha il potere di svestirlo, di smascherarlo e anche se a volte fa male, però lo apre al giudizio di Dio, ovvero alla relazione con Lui. E poi dice che penetra. La parola di Dio è fatta per andare in profondità, per ricomporre in unità i pezzi disgiunti, lacerati, dispersi che abbiamo dentro di noi e arriva dove nemmeno noi possiamo mettere le mani. E basta una parola e credo che, se non tutti, ma molti di noi ne abbiamo fatta esperienza, che basta una parola che ti raggiunge proprio lì dove forse la tua ferita sta sanguinando per arrivare profondamente a cambiare la vita, la tua storia, e il tuo cuore, forse le tue relazioni. Non è fatta dunque per stare in superficie, Gesù lo ribadirà. E poi è una parola che scruta. Scrutare è il verbo del conoscere, non è, come lo intendiamo noi, questo modo un po' quasi malizioso di investigare. È un potere, ha il potere questa parola, ovvero Dio che la pronuncia, ha il potere di conoscere, di custodire, di vigilare, di agire, potremmo dire nel nascondimento. Ecco, queste qualità, diciamo, della parola di Dio, le possiamo incontrare nella preghiera e possiamo farci raggiungere da questa forza della parola che finalmente può toccare, convertire il nostro cuore e quello misteriosamente a cui le persone a cui lo annunciamo. Ecco, infatti il Catechismo ci dice, nel capitolo che ci interessa più direttamente, che riguarda la preghiera, che la lettura della Sacra Scrittura deve essere accompagnata dalla preghiera affinché possa svolgersi il colloquio tra Dio e l'uomo. È chiaro che la Sacra Scrittura viene studiata anche da persone atee, ma affinché accada questo incontro tra, l'abbiamo detto, la sete di Dio e la sete dell'uomo tra il cuore di Dio e il cuore dell'uomo deve essere accompagnata dalla preghiera e vedremo come. E infatti i padri della vita spirituale, sempre il Catechismo ci ricorda, riassumono le disposizioni del cuore nella relazione con la parola di Dio e suggeriscono così, cercate leggendo e troverete meditando, bussate pregando e vi sarà aperto dalla contemplazione. Vedremo meglio che questi sono alcuni dei passaggi per un modo, ecco, che oggi vorrei introdurre, per pregare con la parola. Ci ricorda sempre Paolo che la fede viene dall'ascolto e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Allora questa è anche troppo breve premessa per dire, per ribadire, qualora fosse necessario, che la parola di Dio è fondamentale per incontrare il Signore. Per noi che crediamo nell'incarnazione abbiamo bisogno della rivelazione per incontrare Dio nella storia personale attraverso la conoscenza pregata, direi, della storia della salvezza. Ecco perché Gesù stesso parlerà e parla nei Vangeli della parola e ne darà una delle definizioni, tra le molte, una delle definizioni più belle. Gesù ritiene di ricordarci che la parola di Dio è un seme. I sinottici ci raccontano la parabola del buon seminatore. Mi fermerei un attimo a descrivere, magari qualcuno che è biologo o biologa tra voi conosce meglio queste cose, ma è curioso, no? Come nel Vangelo Gesù prende ad esempio moltissimi esempi dalla natura, non ne aveva di esempi dalla tecnologia, però chiaramente come grande, profondo e interno conoscitore delle dinamiche della natura, no? E quando Gesù parla del seme sa di che cosa sta parlando. Il seme ora noi sappiamo, anche noi, che ha al suo interno un vero e proprio embrione, ci sono dei gusci duri che lo custodiscono e poi c'è un embrione che ha proprio una vita e contiene tutte le caratteristiche della pianta futura, contiene le caratteristiche delle radici, dell'arbusto, delle foglie, dei frutti. Anche il seme, quello più piccolo che Gesù descrive come il seme di senape, ha dentro tutte queste caratteristiche, è avvolto in questo involucro che lo protegge e che custodisce anche tutta una serie di sostanze che sono un po' la riserva della vita del seme. Ecco, quello che noi riceviamo quando entriamo in contatto con la parola è questo seme che ha bisogno di essere accolto e Gesù questo ce lo annuncerà e ha bisogno di essere custodito, ha bisogno di incontrare quindi una terra che abbia delle caratteristiche che lo aiutino straordinariamente a marcire, cioè accedere a questo nucleo interno, le sostanze nutrienti per trasformarsi. Nessuno di noi, vabbè che adesso mangiamo tutto, però nessuno di noi si nutre soltanto di semi o può nutrirsi soltanto di semi, nessuno di noi può nutrirsi soltanto di germogli, ma abbiamo bisogno dei frutti. quindi di una trasformazione di questo seme. Ecco che Gesù quando parla, qui vi ho riportato il Vangelo di Luca, quando parla ai suoi discepoli dice ascoltate il seminatore uscì a seminare il suo seme mentre seminava una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, gli uccelli del cielo la mangiarono, un'altra parte cadde sulla pietra e appena germogliata seccò per mancanza di umidità, un'altra parte cadde in mezzo ai rovi e i rovi cresciuti insieme con essa la soffocarono, un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò cento volte tanto. Il seme, quando i discepoli vi chiedono spiegazioni a Gesù su questa parabola, Gesù non lesina spiegazioni, la spiega benissimo questa e dice così, il significato della parabola è questo, il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore perché non avvenga che credendo siano salvati perché il demonio non vuole che siamo salvati dalla parola né da Cristo. Quelli sulla pietra sono coloro che quando ascoltano ricevono la parola con gioia ma non hanno radici, cioè non va in profondità questa parola, credono per un certo tempo ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che dopo aver ascoltato strada facendo si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Quello finalmente sul terreno buono sono coloro che dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono la custodiscono e producono frutto con perseveranza. Ecco il mistero di questo seme che è la parola di Dio è che è necessario che questo seme perché porti frutto si trasformi, venga trasformato. Quando Gesù raccontava questa parabola faceva anche riferimento al modo dell'agricoltura del tempo, anticamente noi adesso siamo abituati che la terra viene girata e rigirata, vengono fatti solchi, vengono gettati semi. Anticamente invece il seme veniva sparso sulla terra e solo dopo la terra veniva lavorata perché lavorandola il seme scendesse in profondità e anche le zampe degli animali che trainavano l'aratro spingendo sulla terra la lavorassero e facessero scendere il seme. Era una tecnica di coltivazione dalla resa scarsa e quindi noi che siamo super efficienti l'abbiamo poi trasformata in altro ma questo dice qualcosa anche a noi, che questo seme e per questo il seminatore lo getta e vada per tutto in modo così generoso, questo seme ha bisogno di andare in profondità e la vita che ti lavora, che ti fa solchi, a volte pesanti con la tua storia, fa sì, si prende cura la vita stessa, che questa parola se tu la lasci fare scenda in profondità, che questa parola sia un annuncio e un seme che porti frutto dentro la tua vita. Questa immagine è molto suggestiva, poi il Vangelo è sempre stato tra i più commentati questo, però ecco l'idea è proprio questa di credere che ogni volta che noi riceviamo una parola stiamo ricevendo un seme che Dio ci sta consegnando perché come un tempo lo coltivassimo, lo custodissimo. Allora, che cosa serve ecco la parola? A che cosa serve in fondo tutta la vita cristiana? Se cristiana è fatta o desideriamo che sia perché diventiamo cristiani, cioè assumiamo e diventiamo la forma di Cristo. Attraverso la parola ci viene data la possibilità di avere in noi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Questo suggerimento che ci offre Benedetto XVI, prendendo e commentando il capitolo 2 della lettera ai filippesi. Ecco ci introduce in quello che sostanzialmente vorremmo fare questa sera. Avere in noi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù è possibile farlo leggendo la Sacra Scrittura nella quale i pensieri di Cristo sono parola, parlano con noi. In questo senso dovremo esercitare l'Alezio divina, cioè leggere Dio, sentire nelle scritture il pensiero di Cristo, imparare a pensare con Cristo, a pensare il pensiero di Cristo e così avere i sentimenti di Cristo, essere capaci di dare, scusate l'errore agli altri, anche il pensiero di Cristo, i sentimenti di Cristo. Quando vogliamo conoscere una persona, l'unica possibilità che abbiamo è quella di frequentarla. Il Vangelo, i Vangeli ci regalano tutto ciò che ci serve per conoscere il Signore Gesù e ce lo regalano copiosamente. La Chiesa ci aiuta con la sua sapienza nella distribuzione del Vangelo durante tutto l'anno liturgico e attraverso alcuni strumenti, diciamo così, che ci consegna la tradizione monastica in particolare e abbiamo la possibilità di frequentare la Sacra Scrittura, così come stava suggerendo Benedetto XVI, frequentarla per conoscere Cristo e assumere il suo modo di pensare. I suoi sentimenti traduce il suo modo di intelleggere la storia, il suo modo di sentire. Allora, la lezza divina è un modo, diciamolo così, di pregare attraverso la parola di Dio o piuttosto è un modo per incontrare Dio nella sua parola. Dobbiamo risalire al credo XII secolo, spero di non sbagliare, quando Guigo, il certosino francese, un abate della Grande Chartres, diciamo che sistematizza questo modo di pregare attraverso la parola di Dio, lo consegna alla tradizione, ma già da prima accadeva, ma attraverso quei passi che oggi conosciamo in modo più regolare, più ordinato della lezione divina. Vorrei quindi, se posso adesso velocemente, scorrere insieme a voi i momenti della lezione divina, può essere utile per qualcuno di voi imparare un modo per confrontarsi, stare e pregare con la parola fatto così. Ecco, poi ci sono moltissimi modi, c'è la scrutazio, c'è la lettura continuata, ci sono tantissimi modi per stare sulla parola di Dio. Questo, diciamo, che vi propongo è il più tradizionale, io trovo che sia anche, siccome il più rutinario e anche il più adatto ad una modalità di preghiera continua, costante e direi anche riposata, piuttosto che dover sempre provocarsi dentro delle novità, dei modi di preghiera entusiasmanti. Per cui vi invito a seguire, se possibile, ecco, questi piccoli passaggi per il quale vi propongo, che vi propongo adesso. Sono solo alcuni, ecco. Allora, prima di tutto, la stazio. Abbiamo già detto, le primissime volte, che uno dei presupposti della preghiera è questa esclamazione quasi che rompe nel Salmo, no? Di Dio che dice fermatevi, sappiate che io sono Dio. Ecco, è necessario questo stare e appunto si inizia sempre come se dovessimo subito iniziare a leggere la lettura, subito iniziare a leggere il Vangelo. Invece il primo passo è proprio questa sosta. Per fare questa sosta abbiamo già detto che hai bisogno di un luogo, hai bisogno di tempo, di un tempo, hai bisogno di silenzio. Il luogo, non ci torniamo sopra, è la tua stanza segreta, è il luogo della tua preghiera. Il tempo e il silenzio chiedono una vera ascesi, invece. Allora, l'ascesi del tempo ormai è particolare nella stagione di vita che noi viviamo perché richiede proprio un esercizio di dedica. Cioè, se tu non ti dici questi quindici minuti al giorno li dedico a, tu non lo farai mai. Se non lo fai sempre nello stesso momento della giornata, perderai immediatamente il ritmo e non lo farai più. Io dico sempre, quando bisogna entrare nel ritmo della preghiera, che la mattina cosa fai? Ti alzi, fai colazione, vai in bagno, ti lavi i denti, ti lavi il viso, ti trucchi. Tutta la routine che noi attiviamo per cominciare la giornata può comprendere questi quindici minuti dedicati ad una sosta sulla parola di Dio. Ecco, se entra nella routine quotidiana, entra in questo esercizio quotidiano di prendersi cura di sé, allora lo farai con gusto ogni giorno. Se aspetti di avere il tempo non lo farai mai. Serve anche un avere proprio ascesi di silenzio. Che significa? Qualcuno ha fatto anche delle domande su questo. In italiano diciamo, no? E anche nel modo di dire fare silenzio. Ecco, il problema del silenzio è che è qualcosa che bisogna fare, cioè che ha a che vedere con qualcosa di molto operativo, che ci chiede delle energie da spendere. Chiede anche di fare delle scelte, quindi di spegnere ciò che è acceso in casa, di separarci dal telefono, di evitare confusione intorno, di prendere soltanto un luogo dove vediamo che non siamo raggiunti da troppi rumori e poi dedicarsi a questa opera tutta interiore di spegnere i pensieri per accogliere il pensiero di Dio. Questo passaggio, questa stazio ci introduce al passaggio successivo che è il passaggio dell'Alezio. Dicevo origine che la lettera, cioè la parola, è il secondo rivestimento del verbo incarnato, no? Cioè l'incarnazione, c'è Gesù e poi c'è questo secondo abito di Cristo che è la parola. E allora bisogna incontrarla nel testo. L'Alezio è quindi questo incontro con il testo scritto. Allora stare dentro al testo per dimorarvi. Probabilmente bisogna leggerlo e rileggerlo più volte. E' interessante perché la parola testo viene dal latino textus, che è il participio passato di texere, che significa tessere, intrecciare. Da qui anche la trama del tessuto e la trama di un testo, ecco, con tutti i suoi intrecci, con tutti i suoi ricami. Noi dobbiamo imparare a sostare con calma per seguire gli intrecci della trama e i fili del testo. Ce ne dobbiamo, come avvolgere, come se fosse un vero e proprio tessuto, un manto, un lenzuolo. Ecco, il testo, il tessuto del testo ha queste caratteristiche, cioè deve diventare per noi quasi avvolgente. E appunto per fare questo è utile leggerlo e rileggerlo a mezza voce. Ma uno dice, ma posso sta da solo, leggo ad alta voce? Sì, perché? Perché così si attiva la parola e l'ascolto e il contatto con la parola di Dio, quando la proclamiamo è diversa da quando la leggiamo, proclamiamo, quando la leggiamo ad alta voce, è diversa da quando la leggiamo solo mentalmente, solo con gli occhi. Siamo più lenti. Ecco, la lentezza è un'altra ascesi che in questo tempo dobbiamo, se vogliamo, pregare, se vogliamo sostare, dobbiamo esercitare. Ecco, è dentro questo suono avvolgente della parola, cioè ascoltare la nostra voce che legge la parola, dobbiamo imparare a dimorare. Cioè noi non possiamo stare sul testo come dei turisti, noi dobbiamo dimorare come degli abitanti del testo. È un passaggio importante questo, perché noi sempre perché siamo molto condizionati dalle moltissime cose che ci raggiungono, rischiamo di perdere anche questa capacità di dimorare, ma preferiamo viaggiare, cioè stare sempre in movimento. Ecco, quindi dimorare e invece abitare il testo e non viaggiarci sopra come un turista curioso e cambiare subito meta. Per far questo ci aiuta la liturgia, cioè l'anno liturgico che la Chiesa ci consegna con la sua ricchezza come un tesoro. Se l'avessimo dovuto inventare noi l'anno liturgico, io almeno avrei fatto così, no? Cioè cominciamo con l'annunciazione e finiamo con la Pasqua, proprio come le favole, le migliori, no? Con questo. L'anno liturgico invece ci sorprende con i suoi tempi perché è un ammaestramento per la direzione da seguire, perché inizia con il tempo di avvento e si conclude con la solennità di Cristo Re. Cioè non basta che al centro dell'anno liturgico ci sia la Pasqua e ci sia la risurrezione di Gesù, ma ci vuole portare a dire insieme a tutta la Chiesa che Cristo è nostro Re. Non basta che sia risorto, sarebbe buona per Lui, ma è importante per me che diventi Re e Signore della mia vita. Allora seguire la liturgia, l'anno liturgico che nei suoi tempi e i suoi ammaestramenti è fondamentale e evita di nuovo questa dispersione. Quindi dall'Alezio, da questa lettura ripetuta, passiamo alla meditazio. Qui scopriamo una delle parole tra le più diffuse quando si parla di Lezio Divina, questo ruminare che dice Agostino è gustare il sapore col palato del cuore. Allora lo Spirito, lo Spirito Santo che abbiamo invocato già prima, durante l'Alezio ci ha suggerito una parola, a volte basta anche solo un versetto. Meditare, che cosa significa? Significa lasciare che il cuore, di cui abbiamo già parlato e che avete già capito che si può attivare, che il cuore assorba la parola, senta il gusto che la parola provoca in esso. Non si tratta di riflettere su quanto abbiamo letto, quanto di ripetere, di ricordare, cioè di ridare al cuore la parola, di ricordare questo gusto. I padri, appunto Agostino, ma i padri in generale parlano di questa ruminazio, di ruminare. Io ero sempre, ero molto impressionata già dalle elementari quando hanno spiegato il processo della ruminazio, che hanno questi animali erbivoli, sapete cos'è il rumine? Il rumine ho scoperto che è un prestomaco dove gli erbivori depositano tutto quello che mangiano per poi riportarlo alla bocca e continuare a triturarlo con i denti per attivare una predigestione o per facilitare la digestione. Allora sorprende che questo processo nella vita spirituale comporta la capacità di ritornare e riportare alle labbra, dal cuore e alla mente, la parola di Dio, anche solo una parola, un versetto ripetuto e masticarlo a lungo. Ecco, mi sembra che questo tempo della meditazio sia proprio il tempo della ripetizione, della domanda profonda, no? Che cosa Dio, no? Che cosa Dio sta dicendo al mondo? Ora io faccio tutta la teologa super intelligente, ma cosa Dio sta dicendo a me? cosa Dio sta dicendo alla mia vita? Che cosa mi colpisce di quel brano? Perché mi colpisce quella parola? Ecco, normalmente accade che lo spirito ci accende sotto gli occhi un versetto, ci mette il fuoco proprio su una parola e la possiamo così rovinare, ricordare, interrogare. A fronte di questo processo che ora sviscerato così sembra non finire mai, ma ha dei tempi anche molto veloci nella volontà di Dio, no? Ci disponiamo. C'è la parte della preghiera proprio, dell'Orazio. La parola che è stata interrogata, che è divenuta talmente nostra perché l'abbiamo masticata, perché l'abbiamo ruminata a lungo, diventa talmente nostra che lo spirito suscita in noi che cosa possiamo ora chiedere o perché cosa possiamo ringraziare e ci mette davanti alla possibilità di stare davanti a Dio in modo filiale, chiamando Dio padre e dandogli del tu con tutto di noi, con la bocca, quindi con le parole, con la lingua, con il cuore, con il corpo e l'orazione, l'orazio, il tempo della preghiera coinvolge tutto di noi, tutto di noi ed è una banale e semplice risposta oppure banale non è mai banale ma una richiesta, una benedizione, una lode, qualcosa che lo spirito fa sgorgare dal nostro cuore. E dopo l'orazio, l'orazione, arriviamo alla contemplazio che adesso vediamo tutti Gesù trasfigurato sul tabor. In realtà, ecco, qui non c'è davvero nulla da fare. Finalmente, ti puoi proprio riposare, hai fatto tutto e c'è solo da ricevere e restituire quello sguardo nuovo che la Trinità attraverso la preghiera e la parola ti vuole regalare. Finalmente ti puoi riposare. Sicuramente attraverso la parola ti ha raggiunto una luce, ti ha raggiunto un gusto di guardare una luce che magari ha a che fare con la tua vita o ha a che fare di più con la vita di Dio. Questo è il tempo veramente in cui sei felice della dolcezza che ti ha raggiunto oppure sei stupito e colpito dell'amarezza che ti ha in qualche modo interpellato, ma comunque è un momento in cui è lo sguardo che cambia. Cambia sulla tua vita e cambia sulla vita dei fratelli e cambia su Dio soprattutto. E poi c'è l'azione, cioè che cosa significa? Che finalmente dobbiamo diventare cristiani, cioè che l'incontro con la parola non è perché così stiamo in estasi e tutto molto bello, non finisce con la contemplazione, ma deve diventare azione per l'opera della parola dove libertà, volontà e ascolto, cioè obbedienza, si muovono concretamente nella direzione delle opere della fede, cioè delle scelte, delle decisioni, dei piccoli passi che in una giornata sempre possiamo compiere. E poi diciamo che, sì, questa è la parte più operativa, operativa, ma non di meno l'ultima che i padri chiamavano la collazio, ha a che fare con la comunità, con quello di cui parlavamo la volta scorsa, con questa appartenenza a un popolo di Dio, col fatto che la fede se non è condivisa non è, ce la stiamo inventando, con la necessità di promuovere, chissà se possibile, all'interno dei percorsi nelle nostre parrocchie, delle occasioni di lezio divina, anche con i ragazzi è possibile, anzi, normalmente sono sempre loro i molto più ricettivi, perché la parola sia, dopo essere ascoltata, stata ascoltata e pregata, sia condivisa e quindi magari celebrata insieme. Cosa accade? Noi nella chiesa facciamo le cose, è sempre un po' alla rovescia, mi sembra, cioè si preparano gli, magari si prepara l'incontro lotturgico per la domenica che viene, poi viene celebrata la messa, c'è la predicazione con l'omelia e poi basta, il Vangelo è messo da parte. Ecco, forse sarebbe interessante procedere al contrario, ovvero partire dall'omelia e dal Vangelo della domenica ascoltato, ricevuto e predicato per confrontarsi con i ragazzi, per attivare una rilettura, per riprendere gli spunti che magari ci hanno colpito e per appunto far sì che questo seme vada in profondità. E c'è bisogno per questo di fratelli e sorelle con cui condividere il cammino, per ascoltare, ecco questa la parola ascolto ultimamente è molto inflazionata però, ha a che fare con la relazione tra fratelli, c'è bisogno di fare spazio dentro di noi per accogliere le suggestioni che il Signore suscita nel cuore degli altri e per crescere nella fede. Io mi accorgo che nella comunità condividere la parola di Dio e condividere proprio il frutto della preghiera regala la possibilità di crescere nella fede o comunque di vedere che Dio sta operando nella vita delle sorelle, dei fratelli, mi incoraggia, mi incoraggia a perseverare, mi incoraggia a credere, mi incoraggia a pregare moltissime volte. Ecco, ultimamente io vorrei suggerirvi però su questo tema delle cose da leggere, cioè io penso, non so se Don Andrea è d'accordo con me, voi lo pensi per la mia vita, per la mia comunità, io penso che noi dobbiamo studiare, cioè io penso che non tutto viene dallo studio e lo stiamo dicendo, no? Moltissimo, quasi tutto viene dall'incontro con il Signore vivo e vero, ma noi dobbiamo studiare, dobbiamo formarci, la Chiesa ci ha regalato e ci regala continuamente attraverso il suo magistero tantissime possibilità di approfondire che trascuriamo, trascuriamo moltissimo e invece su questo tema della parola di Dio che è un tema cruciale anche per l'annuncio e per la nuova evangelizzazione dobbiamo tornare e continuare ad aggiornarci se possibile su quanto è stato già riflettuto da chi era più grande di noi. Io vi do soltanto come spunti la De Verbum che è una costituzione del Concilio Ecumenico Vaticano II, in nota alla De Verbum trovate i documenti di Leone XIII, mi ricordo, insomma trovate tutti i documenti precedenti e poi c'è questo bellissimo messaggio al popolo di Dio dell'Assemblea dei Vescovi quando è stato celebrato il Sinodo sulla Parola nell'anno di San Paolo, poi l'esortazione apostolica post-sinodale della Verbum Domini pubblicata da Benedetto XVI, questa lettera apostolica che ha scritto Papa Francesco quando ha indetto la Domenica della Parola, ma ci sono moltissime cose, la parte del Catechismo della Chiesa Cattolica sulla parola e sulla preghiera, io credo che sia necessario, questo vale per tutti i temi che approfondite, studiare, incuriosirvi, andare a cercare altro e per poter rispondere della speranza che è stata messa in nome a poter rispondere alle domande, alle domande serie che hanno i giovani che ci rivolgono, bisogna prepararsi, non basta più prega che ti passa, non è mai bastato a nessuno, è necessario che ci formiamo alla scuola della Chiesa, alla scuola della preghiera e alla scuola della parola. Questo lo dico davvero in modo accorato e è faticoso, però porta frutto, ecco. Ho sforato di quattro minuti, chiedo scusa. Aiaiai, ci siamo andati lunghi stasera. Grazie, però era per la bibliografia, quattro ore. Sì, la bibliografia valeva la pena. Grazie, grazie mille per, sia per, anche per la spiegazione delle fasi dell'Alexio che mi sembrano sempre molto, molto utili, è vero che sono una, appunto, qualcosa che sa un po' di antico Guigol certosino, quello che Sor Fulvia citava, appunto siamo proprio i monaci. Un genio assoluto. Sì, trovate gli scritti pubblicati da Kika Ion e da altri editori anche. È vero che è una, diciamo, è una cosa che è stata formalizzata nel monachesimo, ma quelle fasi, come anche Sor Fulvia cercava di dimostrarci, sono di fatto fasi essenziali per qualsiasi preghiera, cioè non, diciamo, anche se uno fa una preghiera veloce e non vuoi fare tutta l'Alexio, ma quelle fasi sono per forza quelle, cioè la stazio, la cosa ascolto, la cosa fino all'azione. È proprio la vita della preghiera cristiana che ha questo ciclo, quindi mi sembra molto importante un po' interiorizzarlo. Chiedeva qualcuno prima le slide degli incontri? Sì, abbiamo tutte queste slide che Sor Fulvia prepara per noi, possiamo certamente poi riusarle, insomma, rileggerle come spunti per ricordarci e per andare poi magari, anche come ci suggeriva lei al principio, a studiare un po' noi ulteriormente. Bene, allora ci vediamo giovedì prossimo, intanto ringrazio sempre Sor Fulvia, ringrazio tutti voi. Vi ricordo, se avete domande o note, osservazioni o anche qualche riflesso sulla base della vostra esperienza di preghiera, scrivetecelo così le giriamo a Sor Fulvia. Bene. Grazie. Buonanotte a tutti. No, 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 buonanotte, grazie. Buonanotte, grazie a tutti.